Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 Si è svolto questo pomeriggio presso la gelateria di Marina Elena Chiru, ideatrice del progetto un incontro tra i commercianti di Viale Repubblica in merito all'iniziativa Viale dell'Artigianato Presenti tra gli altri l'assessore alla cultura Marina Zaretti il presidente di ACOL Giancarlo Macconi il coordinatore di Confesercenti Voghera Rocco del Conte ed il consigliere comunale del Partito Democratico Pierezio Ghezzi Incontro che nelle intenzioni della signora Chiru voleva essere un'occasione per tutti i commercianti di contribuire al regolamento con le loro proposte ma che a tutti gli effetti si è trasformato in un'accesa discussione tra l'ideatrice del progetto, i titolari delle altre attività del Viale e l'assessore Marina Azzaretti Questo è un inizio, una bozza, questo Viale ha una potenzialità enorme ha ribadito Chiru con questo progetto il traffico non verrebbe interrotto e non creeremmo alcun danno ai cittadini Per il presidente di ACOL Giancarlo Macconi l'idea può essere lodevole ma ci sono problematiche serie ed importanti si deve seguire una logica, trovare uno sponsor capire chi partecipa confrontarsi con la polizia locale per discutere di eventuali complessità inutile prendersela con l'assessorato specificato Macconi l'amministrazione locale non è cattiva ma è semplicemente ligia alle regole Per il coordinatore di Confesercenti Voghera Chiru ha commesso un abuso raccogliendo firme di adesione tra i commercianti del mercato cittadino Non si può arrivare a un mese dal Natale e chiedere di fare mercatino ha spiegato Rocco del Conte Per prima cosa i commercianti devono organizzarsi raccogliere i soldi per autofinanziarsi e poi presentarsi in comune per chiedere un contributo Se non ci sono i soldi non si può fare niente Sulla stessa linea l'assessora alla cultura Marina Azzaretti Avere un'idea non è avere un'iniziativa Bisogna prima relazionarsi con le associazioni proporre soluzioni attuabili e concrete Esiste la necessità di una compartecipazione attiva e non solo propositiva oltre che di fondi Se si pensa a questa zona bisogna pensare a tutte le zone Se tutti i viali proponessero iniziative non sapremmo a chi dare il diritto di attuarle I commercianti devono cercare i soldi e poi presentarsi in comune come hanno fatto nel centro città L'assessore spiega di essere a lavoro su un progetto che coinvolgerebbe le varie periferie della città facendole interagire tra loro ma che è ancora troppo presto per parlarne Presenti, anche se misura minore rispetto all'incontro di lunedì scorso alcuni commercianti della zona che hanno sottolineato come l'iniziativa sia partita con il piede sbagliato Prima doveva coinvolgere noi e solo dopo scrivere un regolamento ha spiegato il titolare di una Air Saloon Presenti è anche Diego Di Piero non può prendersela con un assessore qui mancano basi solide sono le parole dell'ex candidato sindaco mentre per il capogruppo consigliere del Partito Democratico Perezzo Ghezzi la mancata coesione tra i commercianti di Viale Repubblica non porterà da nessuna parte Il progetto del Viale dell'Artigianato sembra proseguire con il mancato sostegno da parte delle istituzioni e dei commercianti stessi ma Marina Elena Chiru assicura chi non mette la faccia è perché non vuole prendersi responsabilità ma solo benefici andrò avanti e farò diventare questa situazione un caso nazionale Grazie